Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Antonella Elia ha vissuto un'infanzia segnata da traumi profondi a causa della prematura perdita di entrambi i genitori. Quando aveva solo un anno, sua madre è morta, lasciandola alle cure dei nonni fino all'età di sei anni. A quel punto, suo padre, fino ad allora quasi un estraneo, ha deciso di portarla a vivere con sé, provocando un doloroso distacco dagli amati nonni. Nonostante la casa del padre fosse bella, Antonella la ricorda come un luogo triste e buio, dove il vuoto lasciato dalla madre era palpabile. A 14 anni, Antonella ha subito un'altra grave perdita, suo padre è morto in un incidente d'auto. Questo evento ha ulteriormente complicato la sua vita, poiché i rapporti tra il padre e i nonni erano stati segnati da litigi, impedendole di tornare da loro. Costretta a crescere rapidamente e a contare solo su se stessa, Antonella ha affrontato il suo passato doloroso con una determinazione ferrea, trovando la sua strada nel mondo dello spettacolo. Tra passerelle, canto, recitazione e danza, è riuscita a costruire una carriera di successo. Tuttavia, resta il rammarico che i suoi genitori non abbiano potuto vedere i suoi traguardi e condividere i momenti di gioia che ne sono seguiti.